Ciao amici, oggi provo a darvi la soluzione per un problema che ho riscontrato utilizzando il mio Xiaomi Mi 11. Probabilmente un problema che c'è anche con altri cellulari, però vi racconto la mia esperienza. In pratica non riesco a chiamare e navigare su internet contemporaneamente, questo perché ogni qualvolta che faccio una chiamata il telefono switcha da rete 4G a rete 2G, dunque mi taglia la connettività dati. Ciò significa che in chiamata, se qualcuno mi scrive su WhatsApp, se ricevo una mail o se ho bisogno di navigare in chiamate, magari penso a chiamate particolarmente lunghe, non lo posso fare. Devo necessariamente o connettermi una rete Wi-Fi, oppure aspettare che la chiamata termini per poter accedere alla connettività di rete. Questo problema dipende da una funzionalità che si chiama VoiceOverLTE, volte come acronimo, che non è sempre abilitata sui device e non è sempre supportata dagli operatori di rete. In particolare, sul mio device inizialmente era proprio disabilitata e poi ho scoperto che in realtà il mio operatore non la supporta per niente. Questa funzionalità permette di effettuare la chiamata piuttosto che tramite rete 2G, tramite rete 4G, quindi utilizzando i dati. E utilizzando i dati per la chiamata, quindi, è anche possibile navigare sempre utilizzando la connettività dati in chiamata questa volta. Vi faccio vedere sullo Xiaomi com'è possibile abilitare la funzionalità all'interno di quale menu si trova proprio la voce per abilitare il volte. Allora, è necessario andare in impostazioni, schede sim e rete mobili e all'interno di questo menu, selezionando la sim di interesse, in questo caso la mia chena, in questa schermata dovrebbe essere presente la possibilità di abilitare o disabilitare il volte. Come vedete adesso non c'è, perché lo Xiaomi di default nasconde il pulsante per abilitare il volte, però vediamo adesso come è possibile abilitarlo. Questo è un menu che troverete all'interno di questa schermata, ma ci torneremo tra poco. Vediamo quindi come è possibile abilitare questa voce. Andando nelle chiamate, dobbiamo comporre un numero specifico che vi faccio vedere. Quindi, asterisco, cancelletto, asterisco, cancelletto, 8, 6, 5, 8, 3 e poi di nuovo asterisco, cancelletto, asterisco. Ora, se premo di nuovo il cancelletto, in pratica do il via per mostrare il menu di volte sull'applicativo, sul menu precedente, su quello che abbiamo visto prima. Vedete, è uscito il pop-up, volte carrier check was disabled, cioè significa che prima il menu era disabilitato, quindi l'opzione volte nel menu delle asim era non presente. Adesso, dopo aver dato l'ultimo asterisco, la voce è stata attivata, quindi navigando nel menu di prima, vedete che appare la volte, quindi la possibilità di abilitare il volte per le chiamate. Ora, come vi dicevo prima, questo è un requisito fondamentale per poter navigare e parlare contemporaneamente. Il problema è che non basta però abilitare questa voce all'interno del menu del telefono, quindi faremo tale che il telefono cerchi di sfruttare il volte. E' anche importante che la rete supporti la cosa. E questo ve lo dico perché nel mio caso, nel caso di Kena Mobile, in pratica il telefono in questo momento supporta il volte, peccato che la rete dà picche. Quindi la rete, sebbene il telefono cerchi di utilizzare il volte, utilizzare quindi la chiamata, la connettività dati per la chiamata, l'operatore decide di non farglielo fare. Quindi taglia i dati e switcha sul rete 2G. Dunque, abilitare o disabilitare questa roba nel mio caso è totalmente inutile, a caso del mio operatore di rete che castra un po' la funzionalità. Probabilmente perché è un operatore low cost, quindi magari Team, Vodafone, Wind non in versione low cost ce l'hanno attiva, però nel caso di operatore low cost non funziona. Proviamo ad esempio a chiamare il servizio clienti, quindi io chiamo il servizio clienti, parte la chiamata, vedete che in alto ancora è presente la H, quindi in teoria siamo su connettività dati, ma vi faccio vedere che è falsa sta cosa perché cercando di navigare, quindi passando su browser e andando su, non lo so, su Repubblica, sì, in pratica questa è la pagina che avevo in cache, ma come vedete la connettività dati non c'è. Devo necessariamente chiudere la chiamata per tornare ad avere una connettività dati funzionante, quindi stacco la chiamata e tra un secolo, esatto, la pagina si è aggiornata subito come vedete, quindi ha ripreso la connettività dati solo a chiamata completata. Questo però, ripeto, è un problema di operatore, non di telefono, perché in questo caso la funzionalità a volte, che per gli Xiaomi è nascosta di default, è stata, uno, visualizzata nel menu della sim, due, abilitata, quindi come avete visto è add-on. Sebbene per il momento sia inutile, io lascio comunque la funzionalità attiva sul telefono, questo perché immagino, barra spero, che un giorno anche gli operatori low cost abilitino questa funzionalità, quindi magari un giorno in chiamata mi troverò ad avere magicamente la possibilità di navigare su internet, cosa che oggi non ho, e fino a quel momento continuerò a dover alternare chiamate senza connettività dati a navigazione su internet, però magari spero che arrivi un giorno questa graditissima sorpresa. Chiaramente, se avete necessità di parlare e connettervi su internet contemporaneamente, vi consiglio prima di verificare che l'operatore supporti il volte, prima di procedere all'acquisto. Dunque, in generale, credo che sia un problema degli operatori low cost, mentre gli operatori standard, quindi Vodafone Team, Wind, eccetera, eccetera, dovrebbero avere questa funzionalità già disponibile. Chiaramente dovete anche abilitare la funzionalità sul telefono, ma con questo breve video spero di avervi dato una risposta per abilitare la funzionalità su uno Xiaomi. Credo di avervi detto tutto, come al solito, se avete dubbi o altro, lasciatemele nei commenti e vedrò di rispondervi non appena possibile. Ciao a tutti!